Bene, grazie. Cambiamo un po' scaletta e usiamo un tono un po' più informale, visto che siamo qua in una dimensione anche abbastanza contenuta. Descrivo il contesto per Davide e Ferdinando, siamo in Piazza Duomo, apriamo uno dei tanti appuntamenti di Smart City, siamo in una delle due sale che sono sostanzialmente alle spalle del Duomo. Piazza Duomo è il cuore della città. Quale tema stiamo per affrontare? Quello della tecnologia a servizio di chi vive una dimensione di disabilità. Parleremo di cecità perché, come avrete intuito, Davide dall'età di 16 anni purtroppo ha perso il dono della vista. Qui vicino a noi c'è anche Ferdinando Ceccato, che è il direttore della cooperativa IRIFOR, che si occupa di riabilitazione, di assistenza e di sostegno alle persone non vedenti e cercheremo di capire dal racconto di Davide come la tecnologia possa permetterti di avere un'autonomia di movimento e soprattutto anche un'autonomia di vita. Ti può semplificare i passaggi della vita. Io però prima di parlare di Tifro System, che è l'azienda che realizza questi ausili tecnologici che poi Davide ci descriverà, chiederei a Davide di raccontarsi perché la sua storia è particolare, è anche importante, è anche ricca di sentimento, di vita vissuta. Io ho portato qua questo libro che Davide ha pubblicato due anni fa, credo, I graffi dell'anima, già il titolo è importante, racconta di, innanzitutto di lui, di come ha vissuto questi anni difficili, dolorosi per alcuni passaggi, ma veramente intensi e ricchi di vita, voglia di essersi, di essere protagonisti. Lui gira costantemente l'Europa, Tifro System è un'azienda a livello europeo, costantemente aggiornata, che ha fatto e fa scuola nel campo della tecnologia per la riabilitazione, o per meglio, per il sostegno alle difficoltà, agli problemi della vista, è costantemente aggiornato, impara e comunque trasmette conoscenza su questi passaggi. Davide, raccontaci un po' di te. Io credo di avere una vita molto normale, al di là del fatto che ho perso la vista a 16 anni per la retenita pigmentosa e da quando l'ho persa avevo di fronte a me due strade, o quella di piangermi addosso immaginando che fosse tutto finito perché ero diventato cieco, o quello di riterare l'esistenza in ragione della nuova condizione che vivevo, cioè la cecità. Quindi ho abbandonato, ho scelto la seconda strada, ho abbandonato tutte le velleità adolescenziali, a me sarebbe piaciuto fare l'autista, che era una cosa che per fare avrei dovuto averla vista e mi sono dedicato allo studio e all'inizio pensavo che la mia propensione fosse quella umanistica, quindi dicevo classico e giurisprudenza. Poi ho avuto la fortuna di incontrare un uomo che è stato un mio grande maestro, Giovanni Zanichelli, un direttore dell'IBM, che mi ha detto proviamo a vedere se i cecchi possono fare gli informatici. Non ci credevo, ho fatto una selezione e passata quella selezione mi sono trovato poi incanalato all'interno del mondo dell'informatica agli inizi degli anni Ottanta. Ho lavorato sette anni al centro di elaborazione dati delle assicurazioni generali, dopodiché ho pensato che quella mia prima esperienza era esaurita perché io ce la facevo a fare quello che facevano gli altri ma con molta fatica in più di quella che facevano gli altri. E allora siccome avevo trovato delle soluzioni per cercare di lavorare da programmatore cieco, ho detto perché non generalizzo queste soluzioni che ho trovato per me e per tutti gli altri cechi, da qui è nata l'idea di creare una ditta, la prima in Italia, la Tiflo System, che poi via via è diventata l'azienda di riferimento. All'inizio per l'adattamento dei posti di lavoro per i cecchi e gli ipovedenti, poi si è occupata di sordi, poi di comunicazione, di domotica ed eccoci qua. Sono passati ormai tanti anni perché io racconto una storia che è incominciata nell'80 e siamo nel 2018. L'aspetto interessante del tuo percorso non solo professionale ma anche di vita è che nel momento in cui tu hai cercato di rendere autonomo te stesso hai anche cercato di condividere, allargare questa esperienza, trasformarla in un'attività professionale, creare posti di lavoro e aggiornarsi continuamente. Adesso abbiamo la prima slide che parla appunto di quello che è il riferimento principale di Tiflo System, la qualità della vita e l'autonomia delle persone disabili. Ecco devo dire che forse questa è stata una grande intuizione, trasformare un bisogno come è giusto che sia perché sono i bisogni la leva dell'economia. Allora non si capisce perché se uno ha bisogno di correre si prende la bicicletta o la moto o l'automobile. Se uno ha bisogno di guardare il televisore, si compra il televisore, se uno non ci vede perché non deve comprarsi le cose che servono appunto per chi non vede in modo da poter fare le cose che fanno le persone invece che vedono. Questa è stata l'intuizione. E l'altro aspetto innovativo della Tiflo System, nata nel 1987, è stato che noi non abbiamo voluto fare, come era forse ovvio, una cooperativa, un'associazione, cioè un qualcosa che in qualche modo avesse a che fare col sociale. Noi abbiamo da subito creato una società perché l'idea fondante era quella di soddisfare dei bisogni e vivere di mercato se c'è la soddisfazione nel soddisfare i bisogni. Quindi la Tiflo System è nata pochissimi mesi come SNC, è stata trasformata subito in SPA, è durata fino a tre anni fa come SPA per poi per motivi organizzativi, fiscali di semplificazione, essere trasformati in SRL. Ma la caratteristica di questa società è che ha sempre destinato gran parte degli utili, anziché all'attività o all'interesse dei singoli soci, alle attività di ricerca, alle attività di sviluppo, alle attività di promozione. Una delle ultime iniziative della Tiflo System è che abbiamo sponsorizzato il famoso Dark on the Road che abbiamo visto che è qui in piazza. Quindi l'attività di una società dichiaratamente business che vive di mercato perché se il mercato non c'è l'idea nostra è sempre stata quella che non deve esistere neanche la nostra società. Cioè noi o riusciamo a soddisfare i bisogni e quindi stiamo sul mercato, se non soddisfiamo i bisogni è giusto che cambiamo lavoro. E questo ci ha permesso fin dall'inizio, fin dall'origine di fare quello che si deve fare, tanta e tanta e tanta ricerca. E il modo che la Tiflo System ha adottato sempre di fare ricerca è innanzitutto prima quella di andare a girare per l'Europa, per il mondo, per vedere quello che c'è, per non rischiare di inventare l'acqua calda. Il male del nostro paese in tanti settori, certamente anche nel settore della disabilità, è che noi facciamo di gran progetti pensando che siano progetti innovativi, originali e poi invece sono cose che se uno avesse soltanto messo la testa fuori dall'Italia scopre che magari quelle cose già esistono. Quindi noi facciamo molta ricerca visitando le principali manifestazioni dalla California al Giappone per vedere quello che c'è. Quello che c'è che riteniamo interessante e lo valutiamo dal punto di vista del soddisfacimento di bisogni non ancora coperti, cerchiamo di portarlo in Italia e facciamo un'attività di localizzazione, cioè di adattamento alle condizioni nostre e invece se delle cose non ci sono e ci sembra importante farle sviluppiamo come abbiamo fatto una macchina di lettura come abbiamo fatto un software per rendere il computer accessibile in maniera facile per le persone anziane e per le persone con problemi di vista. Quindi questa è stata sempre l'attività che ha fatto la Tiflo System e se noi andiamo a vedere la seconda slide, già pensate dal 1990 al 1993 noi abbiamo fatto i primi importanti progetti per la comunicazione. C'era una persona tetraplegica che non parlava, che doveva insegnare all'Università la Sapienza di Roma e abbiamo sviluppato il primo software di comunicazione. Abbiamo svolto proprio negli anni 90-91 le prime attività di supporto alle persone sorde con dei sistemi di visualizzazione del suono per poi passare subito dopo la slide 3, per passare subito dopo a tutti quegli interventi fondamentali per la scuola. Noi abbiamo sempre creduto che la scolarizzazione è la chiave di emancipazione, di liberazione dalla disabilità per le persone. Se uno ha cultura, ha informazione anche se è cieco, se è sordo, se è tetraplegico comunque può trovare un suo spazio di vita. Quindi grandi progetti sulla scuola e naturalmente quando uno finisce la scuola non può che esserci il lavoro. Pensate il discorso del lavoro anche in forme nuove, innovative, come era il telelavoro. Io ricordo dei progetti di telelavoro nel 94-95 che permettevano a delle persone soprattutto con disabilità molto grave di lavorare nei settori informatici per delle banche, la Cassa di Risparmio di Parma, la Cassa di Risparmio, nel centro di elaborazione dei dati dell'allora Cassa di Risparmio di Padova con un ingegnere molto bravo che lavorava da Rovigo e così via. Questi sono stati i primi grandi progetti uniti alla domotica. Dal 94 abbiamo incominciato a fare domotica, a automatizzare delle stanze e poi delle case per persone incidentate sul posto di lavoro. Quindi abbiamo lavorato in collaborazione con l'Inail e abbiamo poi fatto degli appartamenti innovativi con finestre, porte, computer, televisore eccetera, comandati con le abilità residue delle persone, ad esempio con la voce anziché col movimento del gomito o col movimento di un piede o col soffio e così via. Fino ad arrivare alle ultime frontiere che sono state le applicazioni tanto importanti per liberare dalla schiavitù dell'isolamento agli ammalati di SLA, cioè i sistemi di comunicazione attraverso lo sguardo, attraverso il controllo oculare. Ecco, questi sono stati gli aspetti prodromici delle attività di mercato e ancora prima delle attività di ricerca della Tiflo System. Per poi arrivare, e qui incominciamo a parlare del posto dove siamo, cioè di Trento, la slide numero 4, nel 2008, quindi facciamo un salto perché sennò la storia diventa troppo lunga, nel 2008 abbiamo presentato a Trento il primo telefonino che permetteva scatando una foto di leggere con un OCR, con un sistema di riconoscimento ottico installato sul telefonino. Pensate cosa voleva dire la liberazione, cioè non essere più dipendenti da una macchina, da una cosa grande, da una cosa importante, avere un telefonino, all'epoca usavamo in Nokia e quindi in ambiente sibbia, un software che era il software Kurzweil installato, si scattava la foto e sul telefonino veniva immediatamente letto quello che veniva fotografato. Nello stesso anno, sempre qui a Trento, è stata presentata la prima versione del tablet per cecchi chiamato Braille Sensor. E' quello che hai in mano? E' l'evoluzione. Questa è l'evoluzione nuova che presentiamo oggi. Questa è l'evoluzione nuova. Era una macchina poco più grande di questa, in ambiente Windows C, una macchina che ha avuto un grande successo in Italia, perché è una macchina solo Braille, ne sono state vendute circa 230, ha permesso a molti ragazzi di studiare e ha permesso a molti professionisti di fare cose importanti. Io vi dico soltanto che la versione antecedente a questa di BrailleSense è quella che usa il cieco più importante che c'è in Italia, è sicuramente l'italiano più famoso al mondo, chi è? Bocelli? E' parlato. Ecco. Bocelli nel suo ultimo video si vede che usa appunto il BrailleSense, lui lo usa per registrare... Ma è fornito da Tiflo System? Eh? Fornito da Tiflo System? Fornito da Tiflo System. E adesso sta attendendo con trepidazione che lunedì gli spediamo la versione nuova. Ecco, quindi c'è un legame molto forte con la città di Trento, con Trento, perché gli strumenti più innovativi li abbiamo lanciati da Trento. E ancora una volta a Trento, oggi, lanciamo la nuova versione di BrailleSense Polaris, che è questa che sto utilizzando. Questo è un tablet con sintesi vocale e display Braille. è un tablet Android, quindi è aperto a tutto. Io posso scaricare tutte le app del mondo Android, ok? E naturalmente tra le app ce ne sono di molto importanti. Cioè, anche qui, l'app per leggere i testi stampati. Quindi io, qui dietro c'ha una, c'ha una, c'ha, no, 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 c'ha una qua. Questa è una, ha una macchina fotografica, per cui scatto la foto e poi quello che ho fotografato lo leggo qui in Braille. Ho il navigatore, per cui ho il navigatore con un programma facilitato che ad esempio mi insegna i percorsi. Pensate, per un non vedente, io mi scarico il percorso, io dico devo andare da Piazza Duomo, che ne so, via Venezia, ok? E poi mi studio il percorso, quindi io ho la possibilità di leggere il percorso che devo fare, la strada, eccetera. E quindi dopo, se mi muovo, naturalmente so già quante laterali devo attraversare, se devo girare a destra, dopo la seconda e la terza laterale, se devo andare dritto, e così via. Naturalmente lo posso utilizzare per fare tutte le cose che fanno le persone, quindi le email, le varie ricerche, posso usarlo come registratore o come parte audio per scaricare musica, ascoltare musica, posso scaricare naturalmente anche dei filmati, ma è evidente che se sono cieco i filmati li ascolto soltanto per la parte audio, cioè i filmati non li vedo. Il BrightSense Polaris è pensato anche, e infatti poi vi accenerò sulla presentazione di questa sera, è pensato anche per facilitare la comunicazione delle persone sordo cieche, cioè le persone sordo cieche usano questa tastiera che è la tastiera Braille, qui c'è un display per cui la persona che è accanto alla persona sordo cieca può leggere quello che la persona cieca ha scritto, o ascoltare se la persona sordo cieca attiva la sintesi vocale, ma la persona che vede, la persona normale, può comunicare attraverso il suo smartphone, attraverso il suo iPhone, il suo Samsung, il suo tablet e così via, può comunicare scrivendo sul suo smartphone, sul suo tablet e quello che viene scritto sullo smartphone o sul tablet, la persona cieca lo legge invece sul display Braille, quindi è un sistema veramente molto molto importante per la comunicazione. All'interno ci sono tutti i programmi per la scuola, ci sono i dizionari, abbiamo fatto un grosso lavoro in collaborazione con l'Istituto Italiano di Enciclopedia e la cosa bella è che non abbiamo soltanto i dizionari in inglese, tipo il Collins, eccetera, ma abbiamo anche il dizionario Trecani, quindi tutti quelli che hanno questo oggetto, se scrivono, possono ad esempio avere in linea il dizionario Trecani, grazie a uno studio, una collaborazione che abbiamo fatto insieme all'Istituto Italiano di Enciclopedia e questo è già stato caricato anche in questa versione nuova. Questa sera, per completare il discorso su questo oggetto, questa sera in una località qui vicina che ha Regole di Malosco, abbiamo persone che provengono dall'Istituto dei Cecchi Romagnoli di Roma, dalla Lega del Filodoro di Osimo, dall'Istituto dei Cecchi Davide Chiusone di Genova, dall'Istituto dei Cecchi di Milano e alcuni non vedenti selezionati che impareranno proprio ad usare questa tecnologia che da lunedì verrà appunto ufficialmente... Ministro, un secondo Davide, ti chiedo questo, mi parli di imparare a usare la tecnologia, ma l'evoluzione tecnologica aiuta sia nella produzione che nell'acquisizione a renderle compatibili al prodotto economico o siamo ancora un po' distanti? No, direi che aiuta a essere compatibili, ripeto, noi abbiamo, cioè con questi strumenti, se uno li sa usare bene si possono fare le professioni che fanno gli altri, uno può fare attività nel settore amministrativo, nel settore giornalistico, questo è uno strumento che permette di svolgere la professione dell'avvocato caricando tutto il materiale di tipo giuridico, permette di fare anche il prete. Noi abbiamo un prete cieco, a Umbertide, che utilizza per tutto, quindi dalla gestione dell'omelia eccetera, utilizza uno strumento di questo tipo ed è un prete amatissimo soprattutto dei giovani, quindi massima... Le tecnologie, se uno impara a usarle bene, non per giocare, ma impara a usarle bene con un'attenzione che deve essere, ripeto, quella non del gioco, quella dell'attenzione per raggiungere un obiettivo, permettono appunto di raggiungere l'obiettivo che può essere anche l'obiettivo professionale. Accanto a questo presentiamo anche uno strumento che è un po' più grande che anziché essere in ambiente Android è in ambiente Windows 10, quindi presentiamo due tablet, uno in ambiente Android e uno in ambiente Windows 10. Mi pare un bel traguardo perché le persone che vedono, tra virgolette, normali, usano Android o usano l'ambiente Windows. Non c'è in questo momento una macchina in ambiente iOS, cioè in ambiente Apple, ma se io voglio Wi-Fi, lo Bluetooth, con questi strumenti mi collego a un iPhone o mi collego a un iPad Apple, quindi c'è la massima connessione anche con il mondo Apple. Quindi mondo Apple connessi, invece direttamente, cioè in una macchina dedicata finita, Android, questo qui, cioè Polaris Brailsense o Argo Braille che è la versione invece in ambiente Windows 10. Tu devi fare fatica a promuovere, chiamiamoli questi prodotti o queste risorse o c'è più richiesta che domanda? No, bisogna, si fa molta fatica perché fortunatamente le persone che hanno problemi di vista sono poche e essendo molto poche non si sa a volte come raggiungerle, cioè non è come vendere un paio di scarpe che uno, basta che metta un cartello e tutti quelli che passano davanti a quel cartello se sono interessati ad avere le scarpe magari si fermano, no? Noi abbiamo qualche cieco a Trento, qualche cieco, purtroppo tra l'altro le persone cieche che conoscono i brai sono sempre meno nei paesi civilizzati come l'Italia. La tendenza è di avere persone che perdono un po' di vista ma non diventano ciechi in tarda età per maculopatia. In fase invece di Natale o immediatamente post Natale o della giovinezza abbiamo persone generalmente con pluridisabilità, quindi se uno ha una pluridisabilità la tecnologia non serve a nulla oppure fortunatamente sono i povedenti e se sono i povedenti basta fornire delle tecnologie che ingrandiscono. Anche qui ci sono delle grandi novità, una rivoluzione quest'anno. Fino a un mese o due fa per gli povedenti e quelli gravi bisognava avere o cose da tenere in mano o cose da mettere sul tavolo. Adesso invece l'elettronica ha fatto dei passi incredibili, si sono miniaturizzate le funzioni di processore, di monitor, per cui ci sono degli oggetti indossabili. Quindi anche per chi vede molto molto poco si può avere un occhiale elettronico. Quello che vediamo in slide. Quello è un occhiale, è una telecamera, quella legge con la voce ed è una cosa rivoluzionaria. Ma ci sono anche degli occhiali che non sono ancora riportati nella slide, li presenteremo a maggio, che hanno una telecamera centrale, al posto delle lenti due monitor e permettono di ingrandire anche cose lontane sui due monitor posti davanti agli occhi che sarebbero al posto delle due lenti. Quindi c'è una grande rivoluzione. Quell'oggetto che avete visto, cioè l'Orcam, pensate, questo è un progetto che è nato nel 2010 e l'abbiamo trovato a San Diego, in California, durante la fiera annuale che si chiama Cizan ed era un prototipo, era un oggetto realizzato da una piccola società israeliana. Poi è stato fermo qualche anno e poi ha avuto una grande evoluzione negli ultimi anni e mezzo. Ha avuto una grande evoluzione perché questa ditta è entrata nell'interesse della Intel perché aveva sviluppato del software che era interessante per la guida automatica delle automobili. Quindi hanno sviluppato lo strumento originariamente nato per leggere e dallo scorso anno devo dire che questo è uno strumento, Orcam, è uno strumento che sta veramente facendo impazzire le persone. La cosa incredibile è che è uno strumento che è molto caro perché il costo varia dai 2.900 euro ai 4.500 euro a seconda dei modelli. Pensate, nonostante questo prezzo molto alto, finora noi quando abbiamo fatto le dimostrazioni l'abbiamo venduto sempre a gente che se l'è pagato con i propri soldi. Non ne abbiamo venduto nessuno ancora tramite il sistema sanitario nazionale, anche se si può avere tramite il sistema sanitario nazionale, ma è stato venduto sempre direttamente alle persone. Le persone hanno trovato talmente un grande entusiasmo nel scoprire che appiccicando questa telecamerina all'occhiale bastava fare un gesto col dito e la telecamerina leggeva subito, istantaneamente la cosa che si aveva indicato, puntato col dito, che la gente poi l'ha acquistata e l'acquista senza avere tentenamenti. Ti interrompo 30 secondi, visto che parlavi di costi. Ministero della Sanità, ILEA, quanto c'è aggiornamento tecnologico? Quanto viene concretamente sostenuto dal contributo pubblico? ILEA sono stati pubblicati in gazzetta il 18 marzo dello scorso anno. Sono aggiornati a dieci anni fa perché la lista e la concezione del nuovo nomenclatore era quello che aveva già predisposto l'allora ministro Livia Turco e che poi era stato bloccato dal ministero dell'economia. Da allora, voglio dire, l'elenco è ribasto lo stesso e è stato pubblicato poi in gazzetta ufficiale dopo che l'aveva firmato il presidente nostro attuale. Il 12 ha fatto anche una sceneggiata. vi ricordate che c'era stato il ricovero per un piccolo malore del presidente del Consiglio a gennaio e la ministra della Sanità era andata in ospedale a far firmare i nuovi LEA il 12 gennaio del 2017 quando Gentiloni era appunto in ospedale. Allora, non ci sono le nuove tecnologie ma i codici possono in qualche maniera far rientrare anche le nuove tecnologie perché ad esempio c'è un codice nuovo che si chiama sistema di lettura e quindi l'Orcam, questa telecamera da occhiale, è un sistema di lettura quindi rientra tranquillamente. Cos'è il problema? Il problema è, lo dico anche per una piccola telefonata situazione capitata stamattina, che mentre il cittadino comune pubblicata una legge sulla gazzetta ufficiale è tenuto a rispettarla e a conoscerla, a quanto pare chi lavora nella pubblica amministrazione può ignorare le norme pubblicate sulla gazzetta ufficiale. Questa mattina uno mi ha chiamato dicendo che l'USL di Padova non applica ancora il nuovo nomenclatore tarifario perché secondo loro mancano delle direttive. E io ho detto ma quali? Ah non sanno. Dico scusa eh, se è pubblicato sulla gazzetta ufficiale il nuovo nomenclatore, anzi è più di un anno, un anno e un mese che è pubblicato sulla gazzetta ufficiale. Ecco, questa è la situazione dell'Italia. Quindi le tecnologie che danno qualità della vita ci sono quasi tutte nei nuovi LEA. Il problema è che chi deve applicare e conoscere i nuovi LEA non sa applicarli e non li conosce. Ecco, magari possiamo anche lanciare un messaggio anche per chi ha la fortuna di non doversi confrontare con un nomenclatore. Il nomenclatore è l'elenco degli ausili tecnologici per chi vive un problema di disabilità. L'aggiornamento con il progresso tecnologico diciamo che è un po' lento. Credo anche che è un messaggio che possa, debba uscire da queste giornate di Trento Smart City Week e anche questo. Ieri abbiamo inaugurato con Diego Piacentini, commissario nazionale per l'Italia digitale. C'è un grande impegno a favore della pubblica amministrazione. Siamo forse un po' più lenti per quanto riguarda i livelli minimi di assistenza. Comunque i nuovi LEA, a differenza di quello vecchio che poteva essere aggiornato con decreto, quindi pensate il decreto precedente era di 18 anni prima, cioè del 99, quindi ci sono voluti 18 anni per fare un decreto di aggiornamento. Ecco, il nuovo decreto per fortuna invece dice che è istituita una commissione che ha il compito di aggiornare l'elenco delle protesi, le ortesi, gli ausili, le tecnologie ogni anno. Quindi l'avere inserito questo comma all'articolo 17, perché il nomenclatore sono gli articoli 17 e 18 del decreto, perché poi il decreto parla di tutto il resto della sanità, ma quello che riguarda il nomenclatore, cioè appunto la fornitura delle protesi, la fornitura delle tecnologie, degli aiuti, dei sussidi per la vita indipendente, per la qualità della vita, sono tutti contenuti nell'impianto generale all'articolo 17 dei LEA e per la definizione degli aventi diritto e delle condizioni per gli aventi diritto all'articolo 18. Poi ci sono una serie di allegati, perché la parte che riguarda noi, gli articoli 17 e 18, sono abbastanza brevi e abbastanza semplici. Tutti gli allegati invece che sono l'elenco dei sussidi, sono una marea di pagine, perché si vada dai cateteri alle protesi vere e proprie, fino ad arrivare per l'appunto alle tecnologie. Il prossimo traguardo della Tiflo System? Il prossimo traguardo della Tiflo System è trovare qualcosa per la mobilità. Oggi noi abbiamo risolto sicuramente in maniera efficace tutto quello che riguarda la comunicazione, quindi la scuola, il lavoro, la comunicazione interpersonale, ma non abbiamo risolto ancora la mobilità in sicurezza. Perché la mobilità in qualche maniera ci sono delle soluzioni prototipali, ma sono tutte soluzioni, non lo so, io oggi con una GPS che può essere che parlante e con un, chiamiamolo bastone, ma può essere che una torcia, un caschetto, che mi rileva gli ostacoli a ultrasuono e con laser, io posso in qualche maniera muovermi e sapere le vie dove sono o il luogo dove sono e anche riconoscere certi ostacoli. Non riconosco ad esempio le parole buche e quindi sono un po' inguaiato perché l'ambiente è fatto di ostacoli fisici ma è fatto anche di buche. Però io sono convinto che, visti i progressi che stiamo facendo, ecco l'applicazione di Orcam della guida automatica delle auto, ecco il fatto che ci sia un grande interesse per la guida automatica delle auto fa sì che poi quell'applicazione può essere sicuramente utile anche per le persone che non vedono. Io dicevo sempre, quando uno incontra una persona cieca per la strada, anziché dire, ah poverino, guarda quello che è sfigato, non ci vede, eccetera, dovrebbe dire, guarda, quello lì, se mi fa venire l'idea giusta per cui lui può muoversi tranquillo, sicuro, per la strada, senza più bisogno di camminare incerto col bastone, se io ritrovo la soluzione per camminare bello, tranquillo, sicuro, veloce, forse ho trovato il modo perché ad esempio quando c'è tanta nebbia la gente sia sicura nel guidare le automobili. Allora oggi il problema è, riusciamo a colpire, è attuale visto il problema in me della Siria, noi riusciamo a colpire con un razzo a migliaia di chilometri con precisione praticamente quasi millimetrica un obiettivo, ma non abbiamo ancora trovato la soluzione per il movimento preciso in sicurezza totale delle persone. Voi avete visto che ci sono stati due incidenti che hanno un po' frenato gli entusiasmi della Tesla eccetera, perché sia Uber che aveva provato delle macchine a guida automatica, pilota automatico, sia Tesla hanno avuto per il momento degli incidenti, quindi il sistema non può definirsi ancora certo e sicuro. Noi siamo soliti a dire quando parliamo di Trento Smart City che sono due gli aspetti che volevo mettere in evidenza. Uno, la persona al centro, l'altra il modo di intendere Smart come è semplice. Come la persona sia al centro tu lo dimostri con l'impegno e con la voglia comunque di raggiungere un'autonomia e una semplicità e autorevolezza di vita. In questo vedo molto simile vicino a te anche Ferdinando Cecato che è qui con noi. Una domanda che voglio farti è, in termini di semplicità, la tecnologia quanto può rendere semplice la vita a un non vedente? Parlando anche di percentuale. Guarda, se penso a quando sono diventato cieco ormai, ahimè, 40 e qualche anno fa e adesso io devo dire che siamo passati dal 4-5% di semplificazione all'80% di semplificazione. Manca ancora, ripeto, questi ultimi passi, questo 15-20% sull'autonomia nel movimento. perché, tra l'altro, ecco, devo dire che questi oggetti sono proprio, insomma, io ricordo sempre in Trentino, a Casteltesino, dall'88 al 94 abbiamo portato circa 600 persone e facevamo i corsi che si chiamavano il computer come libro quaderno. Ma all'epoca le persone dovevano fare un corso per usare il computer. Ok? Allora, che oggi la tecnologia sia facile, sia semplice, lo dimostra che noi non stiamo più facendo corsi. Cioè, un oggetto come questo, una persona media, non un genio, una persona media dopo 4-5 ore che ci smanetta sopra lo sa usare tranquillamente. E lo può fare anche da solo con un manuale. La Orcam, che è questa telecamerina, per leggere, che abbiamo qui, se poi qualcuno la vuoi provare, è uno strumento che si impara in 5 minuti. Cioè, il tempo di fargli vedere come funziona è già imparato e come si utilizza. Io direi che la tecnologia è diventata potente, in senso di efficacia, di possibilità di raggiungere in maniera molto più precisa, più efficiente, più globalizzante l'obiettivo. È diventata piccolissima e leggera. Una volta giravamo con scatoloni pesanti per andare a fare una dimostrazione erano delle sudate. Adesso vai in giro con una borsetta e hai dentro 7-8 tecnologie avanzatissime. Cioè, una cosa... questo pesa 400 grammi e c'è tutto qui dentro. E poi l'altro aspetto è che è talmente easy, è talmente facile l'utilizzo. una volta, Lorenzo, per... oltre a fare il corso, o i corsi, dovevamo mandare gli esperti, gli ingegneri. Ok? Adesso, io dico, è talmente facile l'utilizzo ed è talmente per tutti, per bambini, per persone di 90 anni, che le può dimostrare e spiegare anche una persona, diciamo, che fino a ieri faceva la commessa in un negozio che vendeva vestiti, voglio dire. Ecco. Quindi, per dirvi quanto si è semplificata la tecnologia. Ok? E' chiaro che magari la tecnologia, non lo so, questo ad esempio è uno strumento che presuppone la conoscenza del braille. Quindi se un cieco non sa il braille, questa è una tecnologia che non serve a niente. Ma magari chi non sa il braille, ci sono delle tecnologie con la sintesi vocale. Voi provate a pensare... la Apple, no? Ha fatto il telefono con voice over, ma siccome il telefono era touch, che per molti ciechi è una barriera incredibile, beh, è bastato fare un telefono come questo, che ha la tastiera, oltre ad essere touch alla tastiera, e quindi lo si usa sia in maniera touch, sia con la tastiera. Ma se uno non lo vuole usare né col touch né con la tastiera, voi provate a pensare. Io schiaccio un bottone e chiedo una cosa che ho in tasca, che tempo fa domani, me lo dice subito. Ma io posso anche chiedere, non solo che tempo fa domani a questo oggetto che ho tolto dalla tasca, no? Se non ho l'enciclopedia e voglio sapere quanto è lungo il fiume azzurro o quanto è alta la montagna più importante della cordigliera delle Anne, lo chiedo con la voce e in due secondi ottengo la risposta. Questa è la rivoluzione della tecnologia, che rende... abbiamo un problema. La tecnologia oggi mi permette una marea di cose, è un po' come internet. Il problema è che dobbiamo essere noi che sappiamo cosa chiedere alla tecnologia e noi che dobbiamo sapere come utilizzare per i nostri obiettivi la tecnologia. Io dico, la tecnologia non deve essere usata fino a se stessa come un gioco. Io devo sapere esattamente quello che voglio io prima e poi quello che voglio io devo realizzarlo attraverso la tecnologia che è disponibile. Tu fra un po' devi andare, manteremo l'impegno, poi ci saranno gli amici del Lions che ci faranno vedere come funziona il bastone elettronico, però prima di lasciarti andare vediamo l'opera Orcam. Se c'è un volontario, vedo già chi, Nicola, che sicuramente ci farà vedere come... Nicola Zanella è l'anima di Trento Smart City, il nostro dirigente. è una domanda, una curiosità, sono arrivato un po' tardi, magari l'ha già detto. Volevo capire, lei si definisce di più un cercatore di soluzioni, è un inventore, è un... cioè queste soluzioni che riesce a trovare, le pensa e poi cerca la soluzione sul mercato, le fa realizzare? No, io l'ho detto prima, io prima cerco di capire i bisogni, quindi frequento la gente che ha i bisogni, cerco rispetto ai bisogni che ho rilevato a livello internazionale e mondiale se ci sono delle soluzioni e quindi sono un ricercatore di soluzioni avendo ben chiari quali sono i bisogni, dopodiché a volte le soluzioni non ci sono e abbiamo dovuto che fare degli strumenti, cioè noi abbiamo realizzato all'altrano una macchinetta che si chiama Fox che non è altro che l'assemblaggio di tecnologia già esistente ma messa insieme in un sistema che non c'era e sembrava la scoperta dell'acqua calda o dell'uovo ed è un'idea che mi è venuta semplicemente perché ho capito che una persona non poteva fare delle foto a mano libera con precisione e quindi da lì è nata l'idea di costruire un piccolo trespo, l'ho fatto in un certo modo dove magari inserire anche una cassa amplificata ed è nata una macchina che stava incontrando un grande successo. È chiaro che invece uno strumento come Orcan, c'è Vittoria magari adesso che gliela fa vedere qua al signore, questo è un prodotto che io ho trovato, dicevo, anni fa in California, è un prodotto israeliano, noi ci siamo occupati di questo strumento per la localizzazione in italiano ma è uno strumento che è israeliano. Allora è una telecamerina lunga quanto un dito, pesa 22 grammi e viene applicata la stanghetta dell'occhiare. Può pure indossarla? semplicemente per leggere basta tenerlo in mano, puntare con un dito come se stessi indicando qualcosa. Adesso provi lei, mi tengo il microfono. Lei punti il dito come se stessi indicando qualcosa. Ponga il dito. Provate a pensare che con questo strumento la gente si sente libera di andare al ristorante, di andare in banca, di andare, no? Ed è uno strumento miniaturizzato, piccolissimo, perché la prima versione aveva il processore che si teneva in tasca con un filo, no? E adesso invece è stato tutto miniaturizzato sia la parte del microchip, dell'elettronica e dell'alimentazione con una batteria che dura, pensate, la bellezza di quattro ore, quindi insomma da un'autonomia a uno che si muove per stare fuori tutta la giornata. Bene. Bene Davide, prima di lasciarti andare una richiesta. Quando andrai a consegnare il prossimo ausilio a Bocelli, invitalo prima a Trento. Quest'anno festeggiamo i dieci anni di Grifor, potrebbe essere un'opportunità in cambio di tutto questo. Chiamo l'amico Lions, del quale vergognosamente non ricordo il nome, ma glielo chiederò. Direi che un bel applauso a Davide, possiamo farlo. Auguri per il suo proseguo e grazie di essere qui con noi. Grazie. 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 Grazie.